8.400 paia di Nike e Hogan, 800 giubbotti, 700 maglie Moncler e Barberry, tutti falsi, pronti ad essere messi in vendita come autentici su internet in vista delle festività natalizie. Ha interrotto un giro di merci contraffatta per un valore di circa 2 milioni di euro la compagnia dei Montecatini Terme della Guardia di Finanza che ha denunciato 4 cittadini cinesi residenti in zona. Riteniamo per la qualità proprio di questi prodotti che sono stati fatti verificare da alcuni periti che si tratti di dietro che ci sia un'organizzazione di quelle molto attive in questo settore e purtroppo sappiamo che nel nostro paese segnatamente in certe parti d'Italia esistono delle produzioni elevate illegali di questi materiali. Ad essere denunciati per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi un intero nucleo familiare, padre, madre, figlio e genero, gestori di un negozio di vendita di prodotti tipici cinesi. Il negozio è aperto al pubblico in Montecatini dove operavano questi 4 cittadini cinesi che noi abbiamo denunziato dove vendevano segnatamente dei prodotti tipici del loro paese ma queste cessioni, queste vendite sicuramente costituivano il 2-3% della loro reale attività che era ben altra. Le indagini sono ancora in corso, le fiamme gialle stanno cercando di ricostruire l'intera rete di distribuzione e di approvvigionamento dei prodotti falsi che presumibilmente sarebbero stati fabbricati in Italia. Il sequestro è rilevante direi, sono 10.000 pezzi tolti al mercato illegale ma fa parte quello che abbiamo sequestrato di un qualcosa di più grosso che stiamo cercando di quantificare.